oggi ho preparato per voi il ketchup fatto in casa con veramente pochi ingredienti e qualche spezia si può realizzare un ketchup simile a quello comprato seguite il video vi spiego come fare per prepararlo gli ingredienti che utilizzerò per il ketchup fatto in casa sono 400 g di polpa di pomodoro 60 ml di aceto bianco un cucchiaio di olio mezzo cucchiaio di concentrato di pomodoro mezzo cucchiaino di cannella mezzo cucchiaino di sale un mezza cipolla 40 g di zucchero di canna un po di sale e un po di noce moscata la prima parte della preparazione prevede che io vado a mettere nel boccale la cipolla e l'olio e farli rosolare per tre minuti a velocità 1 a 100 gradi abbiamo messo l'olio ora mettiamo la cipolla nel boccale dopodiché chiudiamo il tappo e procediamo alle impostazioni le impostazioni che diamo sono la funzione automatica rosolare però abbassiamo il tempo da sette minuti portiamo a tre minuti e da 130 gradi portiamo a 100 e diamo il via start la cipolla è rosolata adesso andiamo a mettere uno alla volta tutti gli altri ingredienti partiamo con la polpa di pomodoro i 400 g di polpa poi mettiamo il concentrato il mezzo cucchiaio di concentrato poi mettiamo lo zucchero di canna l'aceto poi mettiamo tutte le spezie compreso il sale quindi dopo aver messo le spezie il sale il pepe la cannella e la noce moscata mettiamo di nuovo il tappo al nostro boccale andiamo ad impostare il robot impostiamo quindi 40 minuti 100 gradi velocità 2 e diamo il via con lo start gli ultimi 10 minuti andremo a togliere il tappo in modo da far evaporare qualora risultasse tutto ancora troppo liquido il tempo è trascorso adesso vado ad impostare un minuto a velocità 10 per omogenizzare il tutto quindi un minuto velocità 10 e poi il via metto in una ciotola e vi faccio vedere il risultato ecco pronto il catch up come avete visto con circa 45 minuti di lavoro siamo riusciti ad ottenere una salsa perfetta come quella comprata spero che la ricetta vi sia piaciuta se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video e a seguirmi sul canale in cucina con messier per tutti i miei video e le mie video ricette e vi invito anche ad iscrivervi al gruppo facebook messier cuisine connect plus italia e a seguirmi sul sito www.messiericette.it e buon catch up per tutti